Vediamo dieci giovani donne. È buio. Le donne prendono tutte una fiaccola che brucia calda e luminosa. Escono. Vanno incontro allo sposo, racconta Gesù. Sono loro le amiche della sposa che fanno parte del suo corteo noziale. Cinque non pensano a portare olio di riserva. Sì, sarebbe bastato certamente. Altre cinque invece, per precauzione, prendono con sé piccoli vasi d'olio di riserva. Lo sposo tarda. L'attesa si fa a lunga. Cala il sonno. Ecco lo sposo, andategli contro! All'improvviso qualcuno grida. È mezzanotte. Le donne si svegliano di colpo. Le fiaccole si stanno spegnendo. Le cinque senza olio corrono a trovarne da qualche parte. Ma lo sposo arriva. La festa comincia. Si chiudono le porte. È brutto che la vita finisca con in mano una fiaccola spenta, unta, fuliginosa, inutile. Se invece il combustibile è accesa, serve a far festa. Ma senza olio che si vive a fare? Ci dice Gesù. Abbiamo olio a sufficienza per attraversare la notte, nonostante la lunga attesa e il sonno?